Marzia Etna con il secondo posto delle mascherate di gruppo conquista la promozione nei carri di seconda, quindi da oggi ti dobbiamo chiamare carrista? Eh sì, mi devo imparare a sentirmi chiamare carrista perché sono sempre stata una mascheratista. È una grande soddisfazione. Sì, sì, è una grande soddisfazione per chi fa il mio lavoro, penso sia una grande soddisfazione per tutto, per tutto il sacrificio che uno ha fatto da quando ha cominciato ad ora. Cosa è che ha pagato secondo te? Ma forse ha pagato anche sì una mascherata tradizionale però con dei movimenti innovativi perché si camminava tra la gente però si muoveva con queste barche. Poi insomma il messaggio era diretto, era un messaggio forte e però fatto con delicatezza, forte ma con semplicità e penso che quello sia piaciuto. Da domani inizia una nuova storia ed è tutta un'altra storia lavorare per un carro. Eh sì, è proprio tutta un'altra storia. Io che sono partita lavorando agli hangar al Marco Polo, poi mi sono allontanata dal Marco Polo, sono stata per diversi anni al tira a volo, poi sono rientrata qui alla cittadella e lavoravo a fianco di un carrista come Giovanni Maggini, perciò ho sempre visto lavorare ai carri. E vabbè, si comincia una nuova storia, no?